Dopo aver indossato casche giubbotto guidati da vigili del fuoco esperti hanno vissuto una giornata da mini pompieri simulando interventi e salvataggi. Al parco Pertini di Arezzo è così tornata a Pompieropoli. Sicuramente si sentono una sirena e si immaginano quello che può essere accaduto e però si comportano in un modo di preparazione che sanno che c'è qualcuno che sicuramente a loro li porta aiuto. Una giornata per divertirsi imparando attraverso un percorso ludico educativo in totale sicurezza e autonomia. Il percorso pedagogico è studiato appositamente per loro, per l'enderli autonomi, infatti come vedi i genitori non fanno più parte del percorso ma sono indipendenti, sono soltanto seguiti da noi e proprio per renderli più autonomi, più partecipi a quello che fanno e mettono molto ma molto più impegno.